Anche quest'anno siamo presenti a Tanexpo, fiera di riferimento a livello internazionale per il settore funerario. Notiamo sin dal primo giorno una grande affluenza nel nostro strand, un grande interesse verso i nostri prodotti e questo per noi è un motivo di grande orgoglio perché significa che il prodotto Spencer è apprezzato e riconosciuto come un prodotto di qualità e duratura nel tempo. In particolar modo sono qui a presentarvi tante novità perché portiamo in fiera ben 25 varianti e bene sì 25 varianti nuove di prodotti già esistenti, alcuni nuovi prodotti. Vediamo subito la nostra linea black, quindi la black line, l'angolo che è stato adibito dal nostro comparto marketing per questi nuovi prodotti in colorazione nera. Possiamo vedere dei barellini da recupero sia fissi, quindi con telaio fisso, sia con il telaio pieghevole quindi ottimo per quello che è appunto la gestione degli spazi, soprattutto a bordo dei mezzi. Entrambi sono disponibili con sacco salma integrato oppure con un telo in PVC rigido. Quindi anche qui diamo all'utente finale la possibilità di scegliere qual è il presidio che si adatta di più alle sue esigenze. Qui vicino vediamo il carrellino Z501, classico intramontabile, molto apprezzato dai nostri utenti finali. Un carrellino già disponibile in colorazione silver oppure bronze. Quest'anno lo presentiamo in una nuova colorazione, in una nuova veste. Colore nero. Per il resto tutto quello a cui siamo abituati non cambia, quindi un presidio super leggero in alluminio ma allo stesso tempo molto robusto e compatto. Ora possiamo vedere che da richiuso il carrellino occupa veramente un ingombro limitato, quindi pochissimo spazio e allo stesso tempo è molto leggero. Una volta aperto come vedete è possibile manovrarlo grazie alle maniglie laterali che vediamo in questo caso aperte che possono essere appunto richiuse e in caso di stazionamento del carrellino è possibile azionare il freno sia da un lato sia dall'altro lato. Semplice da azionare così come da sbloccare allo stesso tempo. Eccoci qui con la nostra barella Z crossover, novità per Tanexpo 2022, una barella con una portata di 250 kg, telaio completamente in acciaio inox, la possibilità di avere l'altezza intermedia molto utile in certi casi, ruote di grande diametro, quindi abbiamo delle ruote piene con un diametro di 20 cm che permettono alla barella di essere utilizzata anche all'esterno in caso di terreni scornessi piuttosto che erba oppure sull'asfalto, la possibilità di avere due delle quattro ruote fisse o all'occorrenza anche se piruettanti, quindi le ruote piruettanti diventerebbero quattro. Questo consente di offrire alla barella maggiore manovrabilità e semplicità di utilizzo. Come vedete un operatore può semplicemente muoverla, quindi movimentarla in maniera molto molto semplice. Presentiamo il nostro nuovo coperchio, quindi un coperchio di copertura della vasca in acciaio inox delle nostre barelle. Il coperchio può essere montato su tutti i nostri modelli e oggi lo vediamo qui appunto sulla nostra barella Z crossover. Che dire, venite qui, vi aspettiamo per toccarla con mano e provarla insieme.